Ciao a tutti, tanti auguri a tutti i nostri tesserati e alle loro famiglie e sempre Forza Real Casarea. Buon Natale a tutti i nostri tesserati e sempre Forza Real Casarea. Buon Natale a tutti i nostri tesserati, da Real Casarea ormai una grande famiglia, tantissimi auguri e sempre Forza Real Casarea. Auguro a tutti i nostri iscritti, alle rispettive famiglie e a tutto il nostro staff un sereno Natale e un felice anno nuovo. Forza Real Casarea. Buon Natale a tutti i nostri tesserati e sempre Forza Real Casarea. Auguri a tutti i buon Natale e sempre Forza Real Casarea. Tanti auguri a Buon Natale e sempre Forza Real Casarea. Auguri di Buon Natale a tutti i tesserati Re Forza Real Casarea. Auguri di Buon Natale a tutti i nostri tesserati e tutti i nostri tesserati. Uno, due e tre, Buon Natale a te! Ehi! 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 Ehi Scuola Calcio, Real Casarea, tanti auguri di Buon Natale e dal gruppo 2005 Buon Natale dal gruppo di Navarro e della Casarea Buon Natale dal gruppo di Navarro e della Casarea Tanti auguri e sempre forzare a Casarea Buon Natale dal gruppo di Navarro e della Casarea Buon Natale dal gruppo di Navarro e della Casarea Buon Natale ragazzi